Buon pomeriggio a tutti, sono Giuseppe Roccasalvo, vi parlo per conto del sito visionforex.info Proprio due giorni fa un collega all'interno della sezione forum del sito aveva scritto appunto un post molto molto interessante sul cambio sterlina dollar utilizzando appunto un software previsionale gratuito che viene offerto all'interno della community per coloro che ci seguono. Il software appunto indicava come dai livelli attuali ci si aspettava un po' di lateralità per poi avere una fase rialzista molto molto importante. Andiamo a vedere cosa si è verificato poi proprio nella giornata odierna con il discorso del primo ministro inglese come potete notare i prezzi su quest'area rettangolare molto importante hanno appunto realizzato diverse figure di probabile inversione momentanea abbiamo avuto un doppio minimo proprio tra il 2016, tra l'ottobre, inizio e fino a ottobre abbiamo avuto appunto ancora una volta una sporcatura di livelli importanti di prezzo sui minimi in area 1.20.70 per poi sul discorso del primo ministro nella giornata odierna rispettare un po' la linea anche indicata da software previsionale che si aspettava rialzi. Rialzi non indifferenti quella della giornata odierna perché vediamo un cambio che si attesta proprio sul 2.80% al rialzo sono le 16.10 quindi insomma primo pomeriggio è comunque la variazione in giornata basta vedere le altre variazioni avute nelle giornate precedenti rispetto all'attuale è stata molto importante a seguito anche di un gap down avvenuto proprio il 13 gennaio su alcune indiscrezioni già indicate sul poi probabile discorso di Teresa May. Ecco questa è un po' la situazione attuale come ci andiamo a comportare sicuramente la giornata odierna è una giornata che indica forza non indifferente sul cambio in corso come ci comporteremo noi? Noi andremo a valutare proprio qualora si dovesse chiudere su questi livelli come i prezzi nella giornata di domani si andranno a comportare sui massimi non andrei mai ad acquistare questi massimi per quale ragione? Per il semplice motivo che spesso statisticamente su candele di questo tipo il break dei massimi comportano sempre un piccolo ritracciamento che potrebbe comunque avvenire anche in area statica di prezzo molto interessante che è l'area dell'1.22 quindi andremo a vedere domani qualora si dovesse chiudere appunto la giornata sui livelli attuali e dovesse avvenire il break dei massimi e si dovesse verificare un ritracciamento proprio sui livelli di area 1.22 possibili segnali di rialzo per quanto riguarda il cable abbiamo a nostro favore la stagionalità e il software quindi con la tendenza di medio e lungo periodo andremo quindi a cercare di sfruttare al meglio il timing di ingresso e poi il timing di uscita sull'operazione io vi ringrazio per l'attenzione vi auguro una buona giornata e vi do aggiornamento alla prossima grazie a tutti